Se questi segni di luce diventano tanti, tutto il mondo si illumina, tutto il mondo diventa più bello. Diceva San Giovanni Paolo II, anche la tremante fiammella di una candela può sollevare il pesante coperchio della notte, basta una piccola luce nel buio perché quel buio venga diradato, venga sconfitto, venga tolto. Ecco, ognuno di noi può essere messaggero di luce, messaggero di speranza, se attinge al cuore di Cristo, se attinge alla parola di Dio. In fondo è quello che ha fatto San Pio. San Pio ha attinto a larghe mani dal cuore di Gesù, dal cuore del crocifisso. Si è nutrito soltanto della grazia di Dio e quella grazia è diventata grazia per tutti i fratelli, per tutti quanti noi. Lo possiamo vedere concretamente nelle opere che Lui ha lasciato, lo vediamo concretamente nel messaggio di speranza, di fede, di carità che ha realizzato in questi luoghi e in tutto il mondo. Ecco, allora vogliamo partire oggi rincuorati da questo messaggio, rincuorati dal fatto di essere destinatari di un dono immenso, che è la grazia di Dio, che è la presenza di Dio. Questo ci può rendere missionari, questo ci può rendere, come San Francesco voleva per i frati, portatori di pace e di bene. Ecco, auguriamocelo di cuore l'un l'altro, auguriamocelo nel momento del bisogno. Ricordiamoci che dentro di noi c'è qualcosa che possiamo offrire agli altri. Ci doni il Signore la consapevolezza di questo, ci doni il Signore il coraggio e la forza di essere portatori di pace e di speranza.